è impazzito paul singer è impazzito è impazzito perché ha detto ciao apro il portafoglio adesso basta ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un pollicione in su se vi piace ma tanto vi piace sono sicuro e un commento perché queste tre cose che tutti chiedono perché sono cose fondamentali soprattutto per un canale giovane come noi che viviamo di commenti e di like sul canale nel senso viviamo in che senso viviamo perché queste cose ci aiutano a capire se siamo nella direzione giusta o sbagliata se piacciamo meno alle persone questo è importante soprattutto per noi che siamo un canale in crescita non siamo un canale consolidato ma siamo semplicemente un canale in crescita quindi per noi è fondamentale chiusa parentesi quindi dicevamo che singer è impazzito è impazzito perché perché ha deciso di aprire il portafoglio perché ha detto boh mi avete stufato vi lamentate sempre questi sono 100 milioni vai comprati le caramelline perché mi ha rotto le scatole più o meno così no nel senso giustamente maldini e company lamentavano il fatto che stiamo facendo sempre mercati distinti mercati particolari anche se il mercato di settembre paul singer ha speso col fondo elliot 70 milioni di euro per il milan che sono briscolotti rispetto al patrimonio di 4,4 miliardi a proposito non lo sapevate neanche voi non lo sapevo neanche io piccola curiosità commisso commisso dalla fiorentina è molto più su di singer del fondo del fondo elliot io sono rimasto basito pensavo fosse un riccone ma di quelli media medi il patrimonio di commisso è di 8,8 miliardi di euro il fondo elliot 4,4 miliardi ci sono rimasto di merda veramente non pensavo sinceramente non credevo che era così però chiusa parentesi per una piccola curiosità quindi volendo commisso potrebbe fare molto più di noi sul mercato volendo e questo stavo dicendo piccola chiusa parentesi quindi decidi aprire il portafoglio e il fondo elliot e di donare e dare 100 milioni a maldini e massara per poter fare un mercato prossimo estivo di quelli interessanti tanti soldi tanti soldi tantissimi soldi per noi ma non per un mercato calcistico ok per un calcio mercato questo mio punto di vista vi spiego la mia la mia opinione perché con 100 milioni quanti top player ci compri uno la vi ce ne è costato 70 la juve attenzione due ottimi giocatori 50 e 50 e dipende sempre tutto da cosa vuoi fare una squadra vero è che il mine è una squadra già abbastanza a posto ma bisogno comunque di vari innesti in tutti le parti perché non è che stia benissimo ha bisogno di puntellare la difesa bisogno di puntellare il centrocampo bisogno di puntellare le ali soprattutto quella destra quella sinistra con le aerebici va più che bene se le au gioca bene ok e bisogno di puntellare l'attacco perché inutile che ce lo diciamo lo sappiamo lì davanti abbiamo un 35enne abbiamo ibra il 41enne che comunque ha seri problemi fisici costantemente fuori cioè ibra l'anno scorso ha giocato il 40 per cento le partite forse quest'anno sicuramente farà ancora meno rinnoverà rinnoverà ma ne parleremo in un altro video quindi bisogno di puntellare anche l'attacco facciamo un recap dei nomi che sono usciti fuori botman sanchez bergwin ok e come cavolo si chiama berardi berardi che è l'attaccante che non lo so dire insomma quello del rems il tk che qualcosa del genere giocatore di 19 anni che lo costano molto a mbappé 2002 giovanissimo segna abbastanza è forte valutato intorno ai 15 milioni ok quindi cosa fai abbiamo un botman 30 milioni un sanchez 30 milioni un eventuale berardi 30 35 milioni un bergwin è più o meno su quella cifra il tk che come cavolo si chiama davanti 10 15 milioni gli hai già superati 100 milioni da un po e cos'hai preso hai preso una certezza che è l'unica che berardi se lo prendi che a me non convince tanto poi vi dico il perché hai preso botman che è un'esperienza francese non lo sappiamo hai preso hai preso sanchez che è tutto da vedere come si comporterà nel campionato italiano hai preso un bergwin che è un ottimo giocatore ma è da vedere anche lui quindi cos'hai preso hai preso tre barra quattro giocatori escludo berardi perché già una certezza per quello che però ci metto entro anche lui vi spiego il motivo hai preso quattro giocatori che non dare una garanzia di essere sì cacchio ho preso questi ho sistemato la ho sistemato la mia squadra per tanto tempo perché sono sicuro no hai preso delle chiamiamole anche scommesse perché devi vedere come vanno se fossero tutti come tomori sono delle buone scommesse quindi secondo me per questo motivo che vi dico che non sono tantissimi come soldi è attenzione e un fondo come egli potrebbe anche sforzarsi un po di più allungare quel braccino e mettere qualcosina di più sul piatto è vero che con le cessioni qualcosina entrerà ma non tanto non tanto discorso berardi è un discorso particolare perché berardi ha sempre giocato nel sassuolo qualcuno mi chiedeva ma come lo vedresti berardi al milan io non lo vedrei non lo vedrei tanto bene è vero che ha fatto comunque un sacco di gol ha fatto anche 10 assist quindi no il contrario ha fatto 10 gol e 20 21 assist correggetemi se sbaglio quindi tanta roba berardi tanta roba ma nel sassuolo berardi ha giocato sempre solo nel sassuolo ragazzi è stato in comproprietà con la juve per un anno un anno e mezzo poi la juve l'ha ceduto completamente al sassuolo per 10 milioni di euro berardi ha 27 anni ne fa 28 28 ad agosto quindi è un giocatore che si avvia verso i 30 e il sassuolo vuole 35 milioni puoi chiudere anche a 30 per carità puoi anche spalmarlo in tre anni però ha giocato sempre nel sassuolo e come facciamo a sapere che in una dimensione diversa in una squadra come una squadra come milan perché il milan in questo momento una delle top del campionato nessuno lo può negare può fare bene chi ce lo dice è questo è questo il problema di che mi preoccupa di berardi e mi preoccupa mi preoccupa mi infastidisce anche il fatto che sia un interista sfegatato è l'ultimo di sua dichiarazione qualche tempo fa io amo l'inter sono nato per perseguire solo l'inter un giorno magari potessi giocare nell'inter io sventolo sempre le bandiere dell'inter e battena l'inter cioè che vai all'inter ma no perché l'inter non lo vuole l'inter non lo vuole perché ha altre ambizioni e altri ti ha in testa altri giocatori come dovremmo dovremmo averne noi poi magari arriva il milan e berardi spacca non lo so però a me non mi convince per il fatto che non abbia mai avuto l'opportunità e non abbia mai lui voluto lui voluto giocare nella squadra perché le offerte le ha avute e mi fa pensare che lui stia bene nella sua dimensione si senta al sicuro nel suo cuscetto del sassuolo è questo che mi preoccupa il fatto che non abbia mai avuto il coraggio di provare esperienze altrove ecco questo è quanto fatemi sapere come cosa ne pensate mi raccomando pollicione iscrizione commento sempre forza milan adios